bella a tutti ragazzi sono Gysius e io sono Alex e oggi siamo su si dica va bene scusa scusa non volevo e oggi siamo su un gioco molto particolare si chiama quei due bastardi sul server quindi qui detto in linguaggio da chi? ok è ispirato al cinergo e basta con questa freccia scusa non lo voglio scusa vabbè ecco i due sul server catmario no catmario è solo cattivo come si può intuire è un rage game e quindi c'è catmario che cattivo no dovevo fare magari autoplay prima cioè? è come giocare no no sono troppo profilo oddio cosa c'è la resume for last checkpoint ma se non c'è ancora giocato già questo è inquilante v jump a left a così oh what's that? what a fucka oh no mannaggia al cazzo di levarsi dal cazzo oh il doppio shark oh faders e come cambio? la fregna di mammi ok qua gli volevo spiegare solo che potevo fare il doppio shark sembra che c'era una trappolona e perché ti lo fai? perché pensiamo che faccio solo in un punto ok non saltare rest space tu c'hai in play oh oh e cosa ti servirebbe c'abbiamo forse c'ha delle abilità diverse ok dai ci nervo no non lo faccio cos'è? che è piovuto che tornaio dal cielo fai 50 oh no 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 oh no 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 ho oddio a parte che schifo mamma mia che efficacità nooo combina doppio salto ma no 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 per prenderci si se puoi ok 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 alleluia 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 dobbiamo che cosa cazzo ce la puoi fare la fregna di mamma devo passare sotto non proprio prendere il cubo non prendere quel cubo allora qua c'è qua qua il cubo sotto c'è un cubo sopra si va ma adesso adesso no aspetta e adesso sono un pò dove sta la trollata nooo per me devo andare su non ti ammazzo che cazzo perchè c'era un cavallo in calore che vabbè che cazzo è quello tu non sarebbe male la fregna di mamma guarda ero non va 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 la fregna di mamma è un sclero poi ci abbiamo anche delle minuti che ci serve che sto guadagnando scusate si che guadagno io ho il morto ho il morto poi c'è anche il tempo cos'è cazzo perchè ok per me devi stare qua no oh tu scherzi e adesso per me c'è un cubo sopra no devo fare doppie salte e andare di culo e proprio se c'è il cubo oh che cazzo ah sono passati così qua ma che la fregna di mamma oh come ne esco oddio adesso siamo fatti allora no provo a passare col burro se riesci ma proprio qua oh e qua c'è la fregatura sicuro se vai su provo a saltare ma quello cade per me vai cat mario c'è il checkpoint si nooo c'ho una coglione cosa hai fatto? dovevo premere spazio ho premuto r check point eh tanti magic point se ne frega un cazzo mannaggia cazzo decisamente allora scendiamo bravo non sono quei stessi vuocosi che vuol oh oh c'è distrutto tutto c'è mi ha perso un muro mi ha va bene tutto a sé un teschio mi ha appena oddio come hai fatto c'è un checkpoint non so se passare di qua basta dentro oddio basta basta prendi quella merda prendi la merda sopra oddio oddio cosa succedeva? ok è quello che succedeva se passavo di là meno male a chi non lo fa prendi la merda prendi la merda ti toglie la merda e adesso che hai questa grande cosa siamo a meno merda del solito non so non capisco oddio succa cavallo succa quello ha lasciato tanto di di bandiera sporca di sangue se non si è di trollata nooo nooo io ho paura che colla oh bandiero bastardo bandiero assassine c'è non era non era più bello se volete davvero dirmi che non era più bello ok ragazzi purtroppo a questo punto si è cancellato una parte di registrazione quindi dovrò parlare sopra perchè appunto si è cancellato questa parte di registrazione intanto tu sai riporto ignobile bravo la prossima parte per avanzare qua avevo scoperto ora e ora che bisognava star fermi in questo punto esatto per un po' senza cadere dopo di che sarebbe arrivata una piattaforma per l'appunto con sto cavallo qua che abbiamo cioè ha un pennarello al posto del e niente bisogna continuare a schivarlo finchè non finchè non appunto non sia abbastanza vicini per saltare ok a questo punto abbiamo preso il checkpoint e questo tizio ha cominciato a spararci allora io ho pensato di fargli via la matrix di andarci contro quindi sono morto e ho vinto contemporaneamente non so perchè quindi non lo so io cioè francamente boh bug estremi intanto il punteggio continua a scendere perchè mi viene impiegato un po' d'oro di tempo ma fa niente se il video vi lasciate un commento e finisci perchè iscrivetevi e non ci gioco più bella ragazzi no non ci gioco più gemini tu sei gemini sei tu quello che ci ha messo i bastoni fra le ruote e tu sei omega xyz questa è la prima volta che ci incontriamo di persona ma ho sentito molto parlare di te so che hai rubato la chiave di androveda anche io ho sentito parlare di te purtroppo mai in modo positivo se hai sentito quelle voci allora sai cosa sto per fare giusto? ti schiaccerò come una mosca e la chiave di androveda sarà mia e la chiave di androveda e la chiave di androveda e la chiave di androveda grazie 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 grazie